Stasera cercherò di stimolare la vostra attenzione con l'arte del Kintsugi o Kintsukuroi. Partiamo innanzitutto con il descrivere che cos'è. Allora è un'arte che si pensa sia nata all'incirca nel quindicesimo secolo in Giappone. Ne ha dato l'avvio a quanto pare uno shogun a Shigaga che ruppe la sua tazza preferita, cosa per un giapponese molto difficile da accettare. Per cui non si sa bene perché, ma decide di inviarla in Cina per farla aggiustare. Evidentemente in quel periodo storico gli artisti giapponesi, gli artisti cinesi e gli artigiani cinesi erano molto famosi per la riparazione. Infatti nasce come proprio l'arte del riparare. Questo shogun però non rimase così tanto soddisfatto. Infatti quando la sua meravigliosa tazza da tè ritornò indietro, era stata aggiustata perfettamente e come dire, le crepe erano state rese quasi invisibili. Ma quello che voleva, e se ne accorse solo successivamente, era un po' vedere la storia della sua tazza. Quindi aveva bisogno di un altro tipo di artigiano. Magari di un artigiano che raccolga i frammenti e che li saldi, sì con una resina laccata, ma con l'oro. Era assolutamente un periodo fiorente per l'arte in Giappone, il quindicesimo secolo. Quindi si può capire che ci fossero anche a disposizione dei materiali molto preziosi. Però questo mi porta subito ad una prima domanda che vorrei condividere con voi. Ma oggi, quando qualcosa che abbiamo si rompe, noi la aggiustiamo o come dire scappiamo a ricomprarla subito? Perché questo potrebbe raccontare molto di noi. Lasciamo perdere il consumismo. Ci saranno altre puntate. Però, pensiamo un po' a quanto ci possiamo affezionare anche agli oggetti. E a quanto ci sia anche una storia della nostra vita, come sosteneva lo shogun, che c'era una storia nella sua tazza, che andava vista. Ma soprattutto, come dire, il riparare e rimettere insieme i pezzi può mostrare tanto la fragilità di ciò che si è rotto, quanto la forza di resistere. E questo in metafora lo possiamo traslare anche sugli esseri umani. Perché una cicatrice che portiamo addosso, facendola facile, magari di un incidente, di un trauma, che si vede, possiamo valorizzarla oppure mostrarla senza farci troppi problemi, oppure tendere a nasconderla o infilarci in situazioni di ulteriori cose da fare per nasconderla, per riaprire addirittura la ferita, per farla rimarginare ancora meglio, per non far vedere agli altri che ci siamo rotti. Questo si collega molto bene con un concetto che, secondo me, ad oggi è un tantino abusato, ovvero quello della resilienza. Anni addietro gli studi erano arriva la paura, scatta la resilienza. Ed era intesa anche come qualcosa di innato, come qualcosa che derivava un po' anche dal temperamento. Quindi da qualcosa che abbiamo nel momento in cui nasciamo. Al giorno di oggi si sente parlare di resilienza per qualsiasi cosa, si sente anche nel giornale, si sente nei film. In questo periodo storico soprattutto si sente parlare di resilienza non soltanto rispetto alla paura del virus, ma rispetto anche al sopravvivere a tutte queste costrizioni, alle limitazioni a cui dobbiamo far fronte. Cioè, se guardiamo ad oggi, in particolar modo in Toscana, stiamo vivendo il secondo giorno di Regione Rossa. Quindi, come dire, i limiti sono stati decisamente rafforzati. La nostra resilienza è sicuramente messa più alla prova rispetto al solito. Però parliamo un po' di resilienza più dal punto di vista, magari, psicoanalitico, come qualcosa che si costruisce insieme alle nostre figure di attaccamento, come qualcosa che ci aiuta a costruire nostra madre, nostro padre, le figure di attaccamento che cominciamo a conoscere crescendo e anche le interazioni che poi abbiamo con l'ambiente. Perché naturalmente non c'è soltanto la famiglia e non c'è soltanto, come dire, le persone che più ci amano, ma c'è anche la questione della socializzazione. Quindi, vedendola un po' più nel dettaglio, quando si parla di resilienza, si parla di plasticità, quindi di meccanismi che promuovono un flessibile adattamento a condizioni e a situazione variabile. Poi, la residenza è integrativa e regolatoria. E poi ancora, è time-based, cioè c'è una temporalità e non è centrata solo nell'evoluzione e nel percorso dall'infanzia alla vita adulta, ma anche nelle esperienze sociali e concrete che facciamo. In questo periodo storico, in cui la socializzazione è venuta a meno, la nostra resilienza è ancora più messa alla prova, perché quelli che ci mancano e sono i momenti di socializzazione, si svolgono sempre quando due o più partecipanti creano una nuova danza. e questi momenti abbinati e non abbinati che coordinano il comportamento, la fisiologia e i stati mentali. Quindi si parla tanto di resilienza in un periodo come questo, quando la socializzazione viene meno. Quindi è una resilienza che dobbiamo aver già acquisito e che soprattutto ci dobbiamo aspettare in parte negli adolescenti e nei bambini, perché hanno ancora molta strada da fare e molte relazioni da sviluppare per poter acquisire ancora più capacità per far fronte a questi momenti incerti e nuovi. Quindi, dopo avervi chiesto se aggiustate gli oggetti che si rompono, vi chiedo anche un po' che cosa ne pensate dell'essere rotti, cioè di quello che ci capita oramai, in questo periodo ancora più spesso, ma comunque durante le nostre vite ci capita, ci capita di sentirsi a pezzi. Abbiamo tante scelte davanti a noi, possiamo scappare, possiamo restare e avvicinarci all'evento che ci ha costretto a sentirci andati in pezzi. E quindi avvicinarci, chiamiamolo trauma, avvicinarci comunque a quella situazione dolorosa, a guardarla un po' in faccia, a cercare di capire realmente che cosa è successo e quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione, perché a volte pensiamo di non essere così tanto resilienti e invece darci del tempo, come vi dicevo, e fare magari anche un passo indietro, ci può dare molti spunti e altri punti di vista su cui poter lavorare per sentirci meno rotti, però magari sentirci ricomposti con queste meravigliose ferite d'oro che alla fine a volte acquistano anche più valore di momenti molto belli della nostra vita. Se ce ne siamo dati l'occasione naturalmente. Tutto lì sta, cioè riuscire a trovare secondo me la possibilità e la forza di darsene l'occasione. Ti volevo, scrive Silvia, ti volevo far leggere questo, a parte qualche bicchiero tazzo appartenente ai miei nonni, non tengo quasi a nessun oggetto frangibile. Generalmente reagisco in maniera molto zen. Significherà che tengo solo ai ricordi di famiglia? Ma già che tu tenga molto ai ricordi di famiglia, non poco, nel senso che segnano un po' le tappe della tua vita, soprattutto per una donna, c'è un passaggio generazionale da femmina a femmina della famiglia che riguarda magari anche oggetti semplicissimi che possono avere veramente significato solo ed esclusivamente per la persona che li ha. però bene, se vengono dal passato bene, poi col passare del tempo avrai anche un nuovo passato e altri oggetti che comunque segneranno nuove tappe e anche la voglia magari di fare un passaggio di emozioni e un passaggio di conoscenza alle generazioni future che poi possono essere chiunque, possono essere i colleghi, gli amici, la famiglia, i figli, qualcuno a cui abbiamo voglia di passare un pezzetto di noi. Mentre parlavi Robby mi si è accesa una lampadina, prima parlavi del consumismo, mi sono ricordato di una chiacchierata... Non ne ho voluto parlare. No, no, mi sono ricordato di una chiacchierata molto carina che ho fatto con Filippo Micheletti, un ragazzo che fa parte di un'associazione che sta qui a Firenze, si chiama i Restarters e loro praticamente riparano oggetti rotti, però di elettronica, cioè quella categoria di oggetti che normalmente sono proprio use e getta, no? Per antonomasia, cioè mi si rompe la... che ne so, loro l'oggetto, la sveglietta, la butto, la compro nuova, mi costa meno. E con lui si faceva proprio questo discorso, cioè l'ho un po' associato al Kinsuji in questo senso, perché lui diceva magari a volte sono costretto a prendere pezzi di altri oggetti e quindi si crea questa sorta di elemento nuovo nell'oggetto che però gli permette di funzionare e quindi ogni volta che si vede l'oggetto si ricollega anche all'evento, passami il termine, traumatico, cioè il motivo per cui è stato rotto. Però lo si vede sotto un'altra ottica, cioè un'ottica vitale, mi verrebbe da dire, cioè una rinascita, un qualcosa che ha permesso all'oggetto di rivivere e di portarsi dietro una storia a quel punto. Che poi diventa diverso, non è più, almeno secondo me, non è più lo stesso oggetto, qualsiasi cosa sia, se riprendiamo anche la metafora della tazza, non è più la stessa tazza, non è una tazza nuova, ma è una tazza che ha fatto un percorso, che se ne è andata per tornare, per esempio, e che racconta, racconta una storia che viene dal passato, ma racconta anche qualcosa che va verso il futuro. Quindi riesce a stare nel passato, nel presente, e a gettare con un po' di coraggio l'occhio al futuro. Io a questo punto aspetterei giusto un po' per vedere se ci sono altri spunti che magari vengono fuori dalla chat rispetto a questo, quindi rispetto a questo parallelismo appunto tra riparare e resistere, mi verrebbe da dire, anche se resilienza e resistenza mi tagliano la lingua, se mi sentono dire No, però parlando un linguaggio più comune, cioè si pensa anche alla resilienza come resistenza, per questo dicevo che è un termine un po' abusato, però non è che non si deve utilizzare, è che bisogna capire che quando si parla di resistenza si parla di un pezzetto della resilienza, che è il risultato di un percorso emotivo e esperienziale di un individuo, quindi se sono diventato a sufficienza resistente, quindi riesco ad affrontare maggiormente le difficoltà, è comunque una sfaccettatura, non è soltanto quello. Assolutamente sì, e tra l'altro mi viene in mente in questo periodo, ripenso al quello che comunemente viene definito il primo lockdown, la prima era del neolitico, quanto effettivamente anche i social siano stati visti come un possibile elemento di resilienza, cioè come tutte le persone che si sono buttate sul mondo social, quindi hanno cominciato a produrre video, Instagram, Facebook, quello è stato un atteggiamento in qualche modo che almeno io personalmente vedo come resiliente, cioè una capacità di non tappare la creatività, anzi veicolarla in una maniera proprio nuova, cercando di creare qualcosa che possa essere utile a me in primis, perché mi permette di sopravvivere a quello che mi sta succedendo, ma può essere anche di spunto agli altri, quindi può essere anche un modo per, un circolo virtuoso per creare qualcosa negli altri, un cambiamento anche negli altri. E c'è Chiara in chat che ci dice ripenso al concetto di restauro che ha accompagnato la mia formazione, recuperare un'opera lasciando però traccia del tempo e del danno che ha subito mi ha sempre affascinata. Questo è meraviglioso, questo è veramente uno spunto molto molto bello, cioè Chiara ci stai offrendo veramente un'immagine più che una frase, perché io ho subito immaginato qualche opera rinascimentale che so che è stata restaurata e che ho rivisto magari dopo tanto tempo che era stata chiusa al pubblico e c'è stata da parte mia un po' questa emozione perché come dire è è sì l'artista che l'ha prodotta oramai che è un po' dietro ma c'è un secondo artista che arriva successivamente e che con un altro tipo di arte che è quella del restauro come dire gli fa un'iniezione di vita a Grazie a tutti